Tornano di nuovo alla ribalta i Greta Thunberghini di ultima generazione, convinti come sempre di essere i paladini del mondo intero. Per fortuna che c'è Cruciani che gli ricorda un attimo cos'è la democrazia. Che sul modello Greta Thunberg, questi novelli Greta Thunberghini italiani, godono di ampio spazio non solo nelle trasmissioni, giustamente perché ci divertiamo tutti, ma anche sulla stampa e hanno anche consenso perché dicono sono il segnale di questo. La realtà è molto semplice che poi quando vanno a finire in galera, perché adesso alcuni di questi amici simpatici ragazzi sono finiti in galera, poi strillano e piangono, cioè commettono reati perché è evidente che è un reato occupare una strada e imbrattare un monumento a casa mia, a casa tua e anche a casa sua, però poi quando finiscono in galera, oddio la galera, c'è la persecuzione. Non c'è alcuna persecuzione, avete mezza stampa progressista che vi dice che siete degli eroi dell'ambientalismo, smettete di piangere, se andate in galera, beccatevi un po' di galera e non rompete le balle. Se io e Del Debbio una mattina ci svegliamo e decidiamo perché così ci girano le palle o perché pensiamo di salvare il mondo, ci mettiamo a imbrattare un monumento al centro di Milano, veniamo presi di peso, probabilmente mandati all'an euro piuttosto che prima che in un tribunale o in una stazione. Anche perché è un reparto dove ci conoscono già. Esatto, siamo degli abituati. Invece costoro godono, hanno goduto a lungo, adesso forse qualcosa inizia a accadere ancora una volta, se io e Paolo Del Debbio ci mettiamo a fare una cosa di questo tipo, nessuno ci dà seguito. Pensano che siamo due poveri matti o due imbecilli che stiamo per strada. Invece costoro in tutti questi mesi, in nome dell'ambientalismo, del mondo che va male, della distruzione del pianeta, aspetti un attimo, lei ha tutto il tempo, ripeto, 23,56. Lei ha tutto il tempo per parlare. In questi mesi c'è un numero di persone, commentatori, giornali, eccetera, eccetera, che sul modello Greta Thunberg, questi novelli Greta Thunberghini italiani, godono di ampio spazio non solo nelle trasmissioni, giustamente perché ci divertiamo tutti, ma anche sulla stampa e hanno anche consenso.